Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché andremo insieme a scoprire la nuova collezione di Tiger di dicembre 2019. Vi ricordo prima che alla fine del video saluterò 5 di voi e che se vi va potete seguirmi su Instagram e mi trovate come chiocciola Alice Latte e trattino basso, ma comunque ve lo lascio sotto invio. E niente, io sono in macchina e stiamo andando, quindi ci vediamo da Tiger. Ma vi ricordo che sul canale, se vi va, c'è una playlist dove ho raccolto tutti i video in cui apriamo le buste di Tiger e andiamo a scoprire le varie collezioni, ve le lascio qua da qualche parte in lì di info. A dopo, ciao! Simba, Simba amore, tu sarai l'elfo di Natale che mi aiuta a scoprire questa nuova collezione? O non mi caghi? Eh? Bibi! O non mi caghi? O non mi caghi? Eh? Bibi! O non mi caghi? Eh? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.